perché io sono soddisfatto di questo luogo di venire ogni giorno qua perché sto a contatto con la diversità e la diversità pura cioè qui funzionano e sono importanti i sentimenti le relazioni e di quello ci occupiamo ci occupiamo dell'anima delle persone e quindi qui nasce la gentilezza e la solidarietà da questi presupposti nasce il benessere il benessere ce la regala solo la relazione